Tutti o quasi potranno rientrare in classe. Dal 29 gennaio gli studenti dell'Istituto Professionale Marconi di San Giovanni Valderno torneranno nella loro sede ad eccezione di quelli dell'indirizzo moda. A comunicarlo ai genitori con una circolare il dirigente scolastico Roberto Santi dopo che la provincia di Arezzo ha certificato la sicurezza di quasi tutti gli ambienti cioè quelli interessati dai lavori di installazione delle reti sui soffitti dopo il crollo a poche ore dal suono della prima campanella. Rasta fuori soltanto l'indirizzo moda che dunque continuerà a fare lezioni a Montevarchi nei locali messi a disposizione dal centro pastorale Guido Guerra. Era stato lo stesso istituto scolastico a chiedere alla provincia maggiori garanzie sulle problematiche sollevate dall'RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione relative alla stabilità delle controsoffittature e l'assenza di possibili infiltrazioni di umidità nonché la stabilità degli intonaci del cortile interno per poter autorizzare così il rientro degli studenti. 17 adesso le aule restituite all'utilizzo scolastico. Restano invece ancora interdette le quattro aule nell'ala interessata dal crollo dello scorso 5 settembre. Le studentesse e gli studenti del percorso professionale moda dovranno così attendere gli interventi di consolidamento strutturale ad opera della provincia.